Tra Pietra e Natura. A meno di due settimane dai campionati nazionali Libertas arriva un altro grande evento podistico sotto i 5 colli targato Gubbio Runners. Domenica 3 aprile, dalle ore 7.30, con partenza e arrivo dalla centralissima Piazza Bosone, si terrà il primo trail Città di Pietra. Gara di corse in montagna, valevole come prova del campionato trail Top Runners Challenge e Truscan Cup, aperta a tutti i tesserati Fidal, Endas, CSI e a tutti gli enti di promozione sportiva. Sulla scia delle fulgide edizioni del trail delle croci che vedevano gli atleti partire da Petazzano ed arrivare sui prati del monte di Casamorcia, il Città di Pietra è stato ideato in doppia distanza, 20 e 10 chilometri, con partenza e arrivo nel cuore del centro storico di Gubbio, percorrendo poi le montagne della zona del Bottaccione e di Sant'Ubaldo. Si prospetta un nutrito parter di podisti, alcuni anche di caratura nazionale e internazionale, per un'iniziativa in pieno spirito Gubbio Runners. Abbiamo deciso per la logistica appunto di tornare in città, perché anche come partenza, come luogo suggestivo, il trail è vero che è una corsa che va fatta sul fuoristrada, però una partenza nel cuore vivo della città di Gubbio era un nostro progetto e ci siamo riusciti, infatti non vediamo l'ora veramente che sia domenica per accogliere al meglio i tantissimi atleti che verranno. Ci saranno, oltre numericamente, si stima tra le 130 e le 150 partenze, tra il percorso 10 chilometri e 20 chilometri, ci saranno appunto anche degli atleti di livello che hanno partecipato anche a gare nazionali e internazionali che renderanno appunto più il livello tecnico, più alto e più competitivo. Noi partecipiamo comunque tutte le domeniche a gare regionali, interregionali e anche nazionali, tant'è che proprio l'ultima domenica eravamo addirittura impegnati in quattro regioni differenti con gare anche di livello nazionale e sarebbe bello appunto che la cittadinanza o molti giovani che hanno il piacere della corsa si avvicinarsi a questo sport che non è solo pura competizione ma proprio il piacere dell'aggregazione e il piacere di fare sport. L'evento, oltre al supporto dell'amministrazione comunale, vede anche la sinergia con il Rotary Club Gubbio con una camminata non competitiva di 7 chilometri aperta a tutti per un progetto di accoglienza strutturato assieme al distretto Rotary 2090 a supporto della popolazione ucraina al fine di creare corridoi umanitari che possano essere costanti e continui per fornire un aiuto concreto sul territorio alle tante persone in fuga dai luoghi flagellati dalla guerra.